Gli ostacoli sono delle prove per verificare che noi siamo in grado di batterli. Saremo anche in disaccordo, io e mio padre, tu e Freya, Brock e Sindri. Ma se collaboriamo, siamo una squadra. È questa la prova di Tyr. Ecco perché ce la faremo fino a Jotenaim. Hai sentito? Il ragazzo ha trovato il suo equilibrio. Cosa significa? Significa che sei saggio, Atreus. Ed è bello sentirti così. Grazie.